Ciao a tutti, oggi prepareremo lo sciroppo di menta. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 30 minuti più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono acqua, foglioline di menta lavate, buccia di limone e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Mettere all'interno del boccale la menta e metà dose dello zucchero. Chiudere. 15 secondi, velocità 10. Riunire sul fondo con la spatola. Per far ripartire il bimbi per altri 15 secondi a velocità 10. Ora mettere il composto ottenuto in una ciotolina e lavare il bimbi. Questo è il composto ottenuto. Metteremo il boccale e andiamo a unire l'acqua, lo zucchero rimasto e la boccia del limone. Chiudiamo. 10 minuti, 100 gradi, a velocità 3. Unire adesso il composto. Unire adesso il composto. Unire adesso il composto. E far lavorare per 5 minuti. A velocità soffra. Adesso lasciare in infusione fino al raffreddamento. Dopo aver filtrato il composto, questo è il risultato. Si conserva in frigo per circa 6 mesi. Si può utilizzare per dolci, bibite, granite o gelati. Sciroppo di menta. Grazie e la prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.